Sì, da dietro ho messo il braccio e la coltiva, poi non l'ho rivisto e non so se voi l'avete visto. Mi dispiace perché comunque è stata una bella partita, ma ritornavamo un match da noi, non abbiamo mai avuto l'occasione. Il calcio è questo e spero che comunque la gente si vede. Colpa del vento, il tuo mancato gol, lei è la prima occasione di test, te l'ha proprio spostata e l'hai colpita di squadra. Sì, sì. Penso che ero convinto di averci dal test e bastava affoggiarsi qua a un certo punto a cambiare direzione e l'ho colpita di spalla. Ma potrò fare sicuramente meglio io, però il vento mi ha aiutato. Siete soddisfatti di questo pareggio oppure volevate qualcosa di più da noi? Beh, eravamo comunque scelto il campo per l'Italia, perché sapevamo che in questo sentimento siamo superiori e alla salute. Però il campo non ha detto questo, mi dispiace e ora è il nostro campionato continuo. Grazie. Grazie.